Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org LGBT, la speranza, giunge dagli Stati Uniti e consiste in un progetto di legge repubblicano presentato alla Camera dei Rappresentanti in Minnesota. Il testo punta a tagliare totalmente a partire dal prossimo anno i fondi statali a tutte quelle biblioteche pubbliche che ospitino un evento Drag Queen Story Hour. Si tratta di una sorta di incontro in cui una drag queen legge storie o libri ai bambini oppure partecipa ad altre attività con finalità educativo di apprendimento dirette ai piccoli e svolte in biblioteca, come ad esempio quello promosso lo scorso ottobre nel territorio dello Stato federato. Il denaro verrà erogato comunque dal Dipartimento per l'Educazione del Minnesota, la cifra complessiva rimarrà la medesima, però verrà ripartita equamente solo tra le altre strutture della rete regionale, escludendo quella inottemperante. Il testo del progetto, noto come legge relativa alla supervisione familiare sulle biblioteche pubbliche, è stato presentato lo scorso 9 marzo ed è ora l'esame della Divisione Finanze Educative dello Stato americano. Da notarsi come gli autori del testo, una volta reso questo pubblico, siano immediatamente diventati bersaglio di mail, messaggi e lettere minatorie. Il loro esempio però sta per fare scuole ed altri stati americani sono pronti a seguirlo. Nel Missouri, ad esempio, l'Assemblea Generale House Bill 2044 ha proposto che ogni biblioteca che venga sostenuta con i soldi dei contribuenti crei una commissione composta da 5 genitori eletti dalla comunità locale per valutare se il materiale sessuale proposto sia lecito e opportuno oppure non lo sia. In effetti ha fatto rumore la foto diffusa dalla Child Protection League, foto che mostra la drag queen Sasha Sotta immortalata in calzamaglia presso la Richdale Library di Minentonka, mentre Chinatasi a gambe larghe per prendere un libro espone allo sguardo degli ignari piccoli ciò che mai dovrebbe essere esposto. Ma questo non è che l'ultimo episodio in ordine di tempo di una lunga, a dir poco, incresciosa serie. Come riferisce l'agenzia LifeSite News, tali iniziative e la sacrosanta protesta da essere provocata pardono da lontano. Nel giugno scorso, nel Maryland, i manifestanti contrari al drag queen story hour, organizzato contemporaneamente presso la biblioteca pubblica di Lexington Park, erano di più degli alunni partecipanti all'evento, un centinaio contro una trentina. All'esterno della struttura, con lo standardo del sacro cuore, i genitori contrari all'incontro hanno organizzato una veglia di preghiera, cantato l'Ave Maria e recitato il Santo Rosario contro la violazione dell'innocenza dei bambini e per la conversione di quei genitori che hanno abbandonato il loro ruolo di tutori dei propri figli, ruolo donato da Dio, accompagnandoli a questo evento depravato, come ha dichiarato l'agenzia Lifeside News, padre Kevin Kasek, unico sacerdote presente. L'incontro, con bimbi di età compresa tra i tre e gli otto anni, è durato circa tre ore ed è stato promosso da sigle che sono tutto un programma, anzi un manifesto ideologico, vale a dire il gruppo Ateo Southern Maryland Secular Romanists e l'associazione LGBTQ flag di Leonard Town. Non è l'unico caso simile avvenuto, tre anni fa, sempre presso le biblioteche pubbliche del Maryland, si sono svolti corsi di educazione sessuale per bambini guidati da un attivista LGBT, peraltro promotore della prostituzione. Tutta questa serie di eventi ha condotto oggi alla messa a punto del progetto di legge repubblicana in Minnesota per evitare che le aule di lettura divengano, o meglio continuino ad essere, promotrici militanti di omosessualità, ideologia e gender. È certamente positivo il fatto che altri stati americani stiano facendo proprio a questa autentica campagna morale, a tutela delle famiglie e in particolare dei figli, ma veda sperare che tali iniziative si diffondano sempre più nel mondo a livello di procedure amministrative e prima ancora di coscienza politica, morale e spirituale. E soprattutto che si diffondano in un'Europa in cui finora si è assistito di contro al triste e incontrastato di la gara dell'offensiva LGBT e diffondersi anche in Italia, in cui, come denunciato dal senatore Simone Pilon, anche l'emergenza coronavirus diventa il pretesto per cercare di far passare silenziosamente alla Camera la proposta di legge cosiddetta contro l'omotransfobia, definita dal senatore leghista in realtà una legge liberticida e una censura del pensiero. Oggi c'è Radio Roma Libera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org